ehi tu che fai il fagotto è un ottimo strumento no io faccio il fagotto vado io ho finito la ferma e va bene da borghese che vai a fare vado suonare in una banda e che strumento suoni il fagotto e perché non lo suoni qui ma già non ci avevo pensato mica e suonalo bene sai perché alla prima stecca che fai ti faccio fare fagotto io ti tengo d'occhio eh come ti chiami antonio fagotto silenzio non ti ride tu seduto